È venuta fuori anche questa idea di raccolta, se qualcuno va a fare la spesa, di alimentari che noi poi prendiamo e con il nostro banca alimentare le diamo alle famiglie che sappiamo che già durante l'anno hanno delle difficoltà, in questo momento poi ancora di più. Uno va a fare la spesa e se vuole lascia di genere alimentari qua. L'idea è quella ed è molto carina di chi può lascia e chi non può prenda. Dopodiché interveniamo noi per garantire che questa match rimanga lì senza essere presa e la consegniamo. Siamo tutti un gruppo di associazioni che stiamo lavorando in rete fra di noi per dare un supporto alla popolazione nel limite delle nostre possibilità. Ma un grazie grande va a tutti i volontari che si sono messi in gioco per fare questo, da chi fa l'ambulanza H24 con tutti i rischi che ci possono essere, a chi fa tutto questo tipo di lavoro, spesa a domicilio, protezione civile, tutto questo pacchetto qui che c'è da fargli un grande grazie, che mettono a disposizione il loro tempo per gli altri, niente di più, per chi ne ha bisogno.